Il Concilio Vaticano II ha rappresentato l'apertura della Chiesa al mondo e all'uomo. No, il Concilio Vaticano II ha rappresentato il silenzio sulla dignità divina dell'uomo. Contraddizione! Ehi, scopriamone alcune! Invece, contro gli uomini comuni, l'inganno manipolatorio del Papa e del grande Imam è stato quello di creare confusione per indurre a risolverla col principio di autorità. Funziona così. Io, autorità importante, affermo una cosa senza senso. Tu, uomo comune, chiaramente non riconosci alcun senso, perché assente. Tuttavia, il ragionamento automatico che comunemente si effettua è Se l'autorità ha parlato, allora ha detto certamente una cosa intelligente, altrimenti non avrebbe parlato. Per cui, la spiegazione del fatto che io non riconosco il senso di ciò che ha detto è perché io sono meno intelligente dell'autorità. Dunque, per il mio bene, devo credere a ciò che ha detto l'autorità. Invece, in realtà, la frase da sapientone è una insipiente frase ingannevole. Tecnicamente è una gabbia di pensieri. Ricordate? Costruita con pensieri contraddittori collegati insieme con la forza dell'autorità. In modo che i propri pensieri rimbalzino all'interno di essa dall'uno all'altro, da un pensiero all'altro. Nella buona fede che tutta la frase abbia un significato reale, quando invece il significato è assente. In questo caso, che le religioni e la lingua parlata sarebbero create da Dio come il colore, il sesso e la razza. Infatti, coloro che credono nella buona fede del Papa rimangono all'interno della gabbia della frase e si mettono sostanzialmente a confermarla anziché a dimostrarla con nuove argomentazioni. Contro dimostrazione con l'alternativa. Affinché la frase fosse stata effettivamente valida rispetto alla sapiente volontà divina e alla creazione degli uomini da parte di Dio, i due capi religiosi avrebbero dovuto togliere la lingua parlata e poi scrivere al posto di religioni la religiosità dell'uomo insieme alle diversità di colore, sesso, ecc. Oppure la capacità dell'uomo di giungere a Dio, ecc. Oppure lo spirito dell'uomo capace di Dio insieme alla diversità di colore, sesso, ecc. Adesso la frase ha senso e non si va all'inferno. Cioè non prendono in giro me e tante altre persone e pensano di prendere in giro quello che ha inventato dall'atomo all'universo? Con chi credono di avere a che fare? Questo è il post-concilio Vaticano oggi. Questa è la religione del concilianesimo. Questa è l'assenza totale dell'essenziale della religione. Soprattutto questa è la messa in solitudine dell'uomo comune. di fronte alle autorità scolastiche giornalistiche politiche economiche mediche ecc. perché in questo modo l'uomo comune non ha più i criteri di Dio ha solo i criteri delle autorità. Avesse anche i criteri di Dio potrebbe giudicare l'operato e le parole delle autorità. ma se tutte le religioni sono uguali se il Dio A il Dio B il Dio C il Dio D sono tutti uguali non c'è più Dio. Ci sono solo le autorità. Gli effetti del Vaticano II e la ricostruzione del suo svolgimento secondo il cardinal Walter Casper che è un ultraprogressista modernista nella sua lettera del 2013 dove fa anche un'interessante ricostruzione storico-sociale di quanto avvenuto dal 1960 al 2010. Era l'epoca della guerra fredda. Allora oggi 50 anni dopo nel 2013 quando scrive viviamo in un mondo globalizzato completamente diverso e in rapido cambiamento con nuove questioni e nuove sfide. Sfide La fede ottimistica nel progresso e lo spirito dell'incamminarsi verso nuovi confini sono volati via da tempo che erano i criteri che animavano quasi tutti i vescovi del concilio vaticano secondo un ottimismo verso ogni cosa. Per la maggior parte dei cattolici gli sviluppi messi in moto dal concilio fanno parte della vita quotidiana della chiesa ma ciò che vi sperimentano non è il grande avvio e non è la primavera della chiesa che ci aspettavamo allora ma è piuttosto una chiesa dall'aspetto invernale che mostra segni chiari di crisi ora per chi conosca la storia dei venti concili riconosciuti come ecumenici questo non costituirà una sorpresa i tempi post conciliari furono quasi sempre turbolenti il Vaticano secondo però rappresenta un caso particolare diversamente dai concili precedenti non fu convocato per estromettere dottrine eretiche o per comporre uno scisma non proclamò alcun dogma formale e non prese nemmeno deliberazioni disciplinari formali cioè il Vaticano secondo rispetto agli altri concili è stato molto meno impegnativo e vincolante eppure avrebbe causato turbolenze e inverno e crisi nella chiesa ma allora non sarà invece vero il contrario ossia che tutti i documenti del Vaticano secondo sono indicati come più dogmatici di quelli dei precedenti concili messi insieme e non sarà che il Vaticano secondo poiché è stato il tentativo di una rifondazione mascherata parziale e incoerente della chiesa proprio per questo ha causato turbolenza e inverno e crisi subito dopo Casper associa l'assenza dei dogmi con le motivazioni del concilio Giovanni XXIII aveva una prospettiva più ampia più ampia dei dogmi vide profilarsi un'epoca nuova cui andò incontro con ottimismo nella fiducia incrollabile in Dio parlò di un obiettivo pastorale del concilio intendendo un aggiornamento un diventare oggi della chiesa attenzione alla chiusura non si intendeva un adattamento banale allo spirito dei tempi ma l'appello a far parlare la fede trasmessa nell'oggi interessanti che Casper mette in secondo piano l'espressione spirito dei tempi caratterizzandolo come qualcosa di poco serio quando invece lo spirito dei tempi era un richiamo continuo durante il concilio da parte dei vescovi ultraprogressisti del nord Europa e maestri di Casper poi Casper prosegue indicando la suddivisione che secondo lui era presente all'interno dei 2400 vescovi del concilio esattamente comincia a parlare di quanti sarebbero stati i buoni e quanti i cattivi nella undicesima parte la maggioranza in concilio secondo Walter Casper e l'indagine sul modernismo ci sentiamo indagatore e indagatore qua c'è il prossimo video l'indagine